Brexit, istruzioni per l'uso, il libro del Presidente di Camera di Commercio, Alessandro Belluzzo. E ora parleremo del nuovo libro che ha scritto il Presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra, Alessandro Belluzzo. Brexit, istruzioni per l'uso. Questo è il titolo per il libro, per spiegare l'intenso lavoro di adeguamento per tutti coloro che sono stati interessati ai molteplici cambiamenti che la Brexit comporta. Noi abbiamo intervistato per voi il Presidente Belluzzo e ne ascoltiamo un estratto dell'intervista completa che andrà in onda venerdì. Peraltro per tutta la comunità italiana in Inghilterra c'è lo sconto del 20% sull'acquisto del libro. Buongiorno a tutti. Ovviamente la visione di Brexit parte da molto lontano, perché parte da più di quattro anni fa, il giorno del referendum, quando tutti ci siamo svegliati, sorpresi del risultato e abbiamo subito pensato cosa fosse necessario fare. E quindi come prima di tutto cittadino italiano nel Regno Unito e poi come professionista e di seguito come Presidente della Camera di Commercio del 2019, mi sono mosso subito ad analizzare, a pensare, con l'aiuto dell'ambasciata, dell'ICE, del sistema Italia in generale, del Consolato, che cosa avessero bisogno i nostri cittadini e concittadini di fare. E abbiamo visto che la reazione principale è stata quella di capire cosa volesse dire Brexit. Ahimè è stato un processo difficile, perché lo abbiamo capito solo il 24 dicembre del 2020, quando è stato fatto il deal, e nel frattempo molte persone avevano già capito se volevano rimanere qui dovevano registrarsi del cosiddetto settle status o pre-settle status, per avere tutti i diritti come prima. mentre le imprese che già erano qui o che avevano a che fare con il Regno Unito hanno avuto, diciamo, molto più da fare, perché dovevano capire meglio quali fossero le nuove regole e lo stiamo capendo tuttora adesso. Ci sono stati tanti cambiamenti pratici, basta pensare al problema dei trasporti, dei dazi e quindi costi legati alla dogana, che prima non esistevano. Quindi ho pensato bene, proprio durante la pausa dovuta al lockdown, di raccogliere le varie idee, anche con il contributo di tanti colleghi professionisti che mi hanno aiutato, e creare una guida. Una guida che voglio che diventi e che sia a disposizione della comunità, con la quale le persone possono valutare bene l'impatto per ciascuno, per loro, per i loro familiari, per le imprese, e in questa guida in particolare, che si chiama Brexit, istituzioni per l'uso, ci sono delle checklist per capire quali sono i cambiamenti principali per le persone fisiche, per gli individui che vogliono restare, venire o andare via dal Regno Unito a seguito della Brexit. E stessa cosa è per le imprese, per i cambiamenti che ci sono stati legati ai temi contrattuali, ai temi personali, basta pensare alla nuova necessità delle regole di immigrazione per assumere i dipendenti, che prima non c'erano, le cosiddette working visa. E da ultimo anche i cambiamenti, ovviamente, legati a IVA, dazzi, costi fiscali aggiuntivi, che vanno affrontati, come tutte le cose, come tutti i cambiamenti vanno ben affrontati, specificati, analizzati e presi alla decisione. Perché, come ho detto nel mio libro, nella vita l'importante è scegliere. Bisogna creare il proprio capitale umano, investendo su se stessi, investendo con l'azienda, creare una storia e pensare poi di cosa voler fare. Il popolo britannico ha scelto con Brexit, è arrivato fino in fondo. E noi dobbiamo scegliere. Se vogliamo rimanere qui, queste sono le regole, affrontarle, perché non è che non si può più restare, lavorare, vivere nel Regno Unito. Anzi, si deve, si può, ma si deve fare in modo diverso. E l'altra cosa che ho analizzato nel libro, dovuta anche a recenti normative che sono state create in Italia, anche grazie ad alcuni supporti che abbiamo potuto dare al governo, è stato molto importante il confronto, perché l'Italia, da un po' di tempo, ha delle normative per attrarre il capitale umano, il rientro del capitale umano. Basta pensare alla famosa flat tax, o al rientro dei cervelli, o da ultimo alla cosiddetta tassazione per i pensionati. Queste regole hanno permesso anche, a seguito della Brexit, ma soprattutto con Covid, di valutare se l'Italian lifestyle potesse essere anche la giusta scelta dal punto di vista fiscale, perché tutte queste regole danno sicuramente un trattamento di favore fiscale, che alcuni hanno deciso di intraprendere. L'importante, come ho detto e come continuo a sostenere, è che non si può fare una scelta solo per motivi fiscali. La scelta deve essere fatta perché ci sono ragioni sociali, economiche, di vita, e se c'è un vantaggio, perché no? Ma non può essere il vantaggio a spingere la scelta, perché, come quando io ho scelto di venire qui, più di 15 anni fa, nel Regno Unito, se dovessi scegliere di tornare in Italia, lo farei con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia, non lo farei perché c'è un'opportunità legata alle tasse, lo farei perché c'è un'opportunità legata al mio capitale umano, al mio investimento personale di crescita, e perché no, per l'Italia, per le nostre aziende, per il nostro futuro. La cosa importante è che questo capitale umano circola, come circola magari cambia, con la Brexit circola in modo un po' diverso, ma sicuramente non si ferma e noi non ci dobbiamo fermare. Scarica l'applicazione di TeleLondra, è gratuita e rimani connesso con il mondo italiano in UK. Ricevi le informazioni per gli italiani in UK tutti i giorni. Se anche tu vuoi fare pubblicità su TeleLondra, scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430.